In questo InterSolar 2019 presentiamo vari moduli, principalmente due moduli. Il primo è un modulo bifacciale da 410 watt, è il nostro BIQ, raggiunge potenze di 410 watt ed è il primo poli della Canadian Solar che supera i 400 watt. È un modulo dual cell, bifacciale come ho detto prima, progettato per ottimizzare quelli che sono i valori di LCOI. Mentre il secondo, che è il nostro HIDM, è un modulo all black, shindle, quindi caratterizzato dall'assenza di busbar ha le dimensioni di un modulo da 60 celle, però riesce a raggiungere efficienze veramente alte, pari al 20.37% e un output di 335 watt, entrambi già disponibili sul mercato.